Pokémon Uranium. Alcuni di voi, sentendo questo nome o anche solo avendo visto il titolo del video, avranno provato un fortissimo senso di nostalgia. Nell'oramai lontano 2016, infatti, portai proprio qui, su questo canale, una serie dedicata a questo fangame alquanto particolare. Si vede che ne è passato di tempo, eh? Aveva ancora i capelli ma non li aveva ancora tinti di verde. Comunque sì, Pokémon Uranium è un fangame alquanto particolare. Avete mai desiderato una regione Pokémon piena di centrali nucleari, creature affette dalle radiazioni e, beh, morte? No? Beh, poco importa, perché Pokémon Uranium è esattamente questo e a sei anni di distanza dal mio primo playthrough. Lo scorso settembre ho deciso di rigiocarlo in live. A tal proposito vi ricordo che sono in live tutti i giorni da lunedì al venerdì a partire dalle ore 7. Il venerdì su YouTube, gli altri giorni su Twitch per i quali vi lascio il link in descrizione. E ora godetevi le mie avventure nella radioattiva regione di Tampor. Cominciamo con un po' di backstory. Ciao zia, me ne vado. Non la voglio salutare, la zia. Tanto crepa. Domanda seria, ma lo zio... Eh, lo zio l'ho assassinato io quando avevo 4 anni. Cioè, io come Giuseppa, non io, Tirless Raptor. Ah, ragazzi, dove pensi di andare? Intendi arrivare al laboratorio prima di me, così potrei poter prendere il Pokémon migliore? Tutto questo non accadrà, perché io prenderò il più fico, il più forte. Fottitile il culo, Giuseppa. Che brutto carattere, no, no, cioè, nel senso. Guarda un po' chi è uscita dalla sua caverna. Ciao, Giuseppa. Ah, è il tuo amico. Tommy, vero? Ehi, vecchiaccio, non ti ricordi neanche il mio nome? Mi chiamo Teo. Teo, come il terzino sinistro del Milan. Oggi è un giorno molto speciale per entrambi. È il vostro primo giorno di lavoro sottopagato. E viva! Che bello il contratto di apprendistato. In questo gioco, lo starter non puoi sceglierlo tu, ma ti viene assegnato in base alle risposte che dai a un test. Un po' in stile Pokémon Mystery Dungeon. Il detto la miglior difesa e l'attacco probabilmente è il tuo mantra. Ah, ok, ho capito, sono Zdenek Zeman. Hai uno spirito ardente che non si spegne mai in te. Mmm, ci verrà forse dato il Pokémon fuoco? Raptorch! Pog, Tearless Raptorch! Fontò che... Era scontata, me ne rendo conto. Me ne scusate. E quindi, dopo aver fatto il culo a Teo e al suo Orching, starter di tipo erba acciaio, e aver fatto piangere il Pirletta, mi faccio dare la mappa di Tandor da Cameron, padre di Teo ed ex collega di Mamma Lucille, ed inizio ad esplorare la regione. A piccolo appunto, la squadra utilizzata sei anni fa è questa, e vi dico già che nessuno di questi sei farà parte del mio team. Giusto per variare un po'. Tear ma chi cacchio sono questi Pokémon, giustamente non l'ho specificato, ma tipo il 90% del dex di Tandor sarà composto da Fakemon, e uno di questi è stato proprio la mia prima cattura. Kabbug? Ma è bruttissimo! Ne voglio 12! Dai, vediamo se riusciamo a catturarlo. E la nostra prima spacciccata regionale è stata fatta. Kabbug, appena aggiunto la squadra. Non chiamatelo Kambug! Andiamo a catturare questo robo, potrebbe essere il nostro Pokémon volante. Maybe yes, maybe not, non lo so, si vedrà. È Patamon a base di Taro. Che caruccio! Guardate che definirlo lo Zubat di questo gioco, in realtà è un complimento, perché Golbat e Crobat sono dei signori Pokémon, mentre Tony mi è stato catturato. Passion! Questo ve lo ricordo. È una pecorella di tipo buiolotta. Ce l'avevo in squadra ed era forse il mio Pokémon più forte. Bellissimo! GG! Dunsparse! Che bellino, Dunsparse! Che, se non ricordo male, in questo gioco ha pure un'evoluzione. Che è meravigliosa. E sarà anche bella, ma nessuno può battere da Dunsparse. Ah, finalmente! Libertà! Pace! No Tox City! Salve! Allora, questa è una palestra. Oh, forse sei qui per vedere Maria? Oh! Devi essere proprio come me! Io sono il suo più grande fan. Oh, però il problema è che non è mai in palestra lei. Una scansa fatiche. Ma raga, questo è uno stalker. Mi ha dato una copia della chiave di casa della capopalestra. Polizia! Polizia, devo riportare un crimine! È questa casa sua, vero? Sì. C'è qualcuno? Chi sei tu? Che ci fai a casa mia? Non puoi entrare nella casa delle persone in questo modo. Specialmente quando ho una porta chiusa a chiave. Come cazzo sei entrata? Hai una copia della mia chiave di casa? Dammela subito! Aspetta, tu non sei un fan, vero? Sei un'allenatrice? Quindi mi stai cercando in qualità di capopalestra, eh? Ok. Vorrà dire che dovrò fare il mio lavoro una volta tanto. È proprio come quelli delle postre, Pog! È una lunga e difficile battaglia che ti porterà ad arrivare ad essere campiona. Campiona? Campio, campio, campio... Bravo! Ce le hai le palle per farcela? Sì, Maria, ce le ho. Madonna! C'hai un occhio qui e un occhio qui. Picassica. Hai venuto di sì? No, la pozione no, Maria. Serviva proprio. Eh, lo ritira anche. Non il felling con intimidate. Bastardo di un gatto. Vai di bracere. Speriamo che faccia un po' di effetto. Ovviamente prova a mettermi a nanna. Me lo rischio? Sì, mi rischio le nanne. Ah, buongiorno. Alla buon'ora, eh. Quando lo poteva tirare giù anche l'avvelenamento da solo. Grande, raptor. Felange! No, questo qua mi apre il culo. We do have a big problem now. Continuiamo ad abbassargli la precisione. Daveri pezzi di merda. Siamo a 5 mudslap. Ancora un colpo, Bariul. Yes! Yes! Questo era lo spirito che voglio vedere da nuovi allenatori. Ascolta, ciccia, fuori dai coglioni. Ottenuta la prima medaglia, sblocchiamo anche la MN Spaccaroccia che tornerà utile per proseguire il nostro viaggio in direzione Burultown. Tuttavia, non prima di aver battuto Teo e averlo fatto piangere di nuovo. Nice. Torniamo quindi a Mokitown ed entriamo nel percorso 3 dove assistiamo finalmente alla prima evoluzione di questo viaggio. Kabag sale al 10 e quindi avremo ufficialmente la nostra prima evoluzione di Pokémon Uranium. Ma è tipo Fate Seeking. Sembra Seeking Grasso. Quanto sta impepechito! Quanto è tutto quanto impepechito è Maurizio Costanzo! C'ha pure il baffo di Maurizio Costanzo! Tutto molto bello. Se non fosse che tutto ciò che avete visto fino ad ora non è servito ad assolutamente niente. Noi, è cresciato il gioco! Non ho mai salvato. Non ho attivato il salvataggio automatico. Non ho mai salvato, raga. Ma voi perché mi seguite ancora? Sono così dannatamente impepechito! Fatto sta che mi sono dovuto rigiocare tutto quanto off-camera cercando di replicare le prime due ore di gameplay nel miglior modo possibile fino ad arrivare a Bural Town dove possiamo già andare ad affrontare la seconda palestra. E partiamo benissimo! Con Tonemi! Pokémon Veleno! In effetti pensavo anch'io fossi tipo Roccia la palestra ma fino ad ora abbiamo avuto un veleno normale e un terra. Il typing di questa palestra non è un effettivo typing è un tema. È una palestra tematica. E a questo punto mi viene da pensare che il capo palestra qui potrebbe avere quantomeno una delle tre evoluzioni dei Pokémon che abbiamo affrontato fino ad ora. Ciao allenatore! Ciao Federic95ita! Come stai? Probabilmente già lo saprai ma il mio nome è Davern come Cavern, cioè Caverna ma con la D. Quindi ciao, mi chiamo Daverno. Dave più Cavern, quindi si chiama Cavide. No, non la mia velocità che già sono lento. Povero Cablefly. Ok, giù il primo. Quanti Pokémon gli rimangono? Due o tre ancora? Sapete che non ne ho idea? Modril. Cazzo è Modril? Suona fico però come nome. E non ne ho idea di chi potrebbe essere. Ma è carinissimo! Grazie Modril. Molto gentile. Mi sa che questa è l'orribile evoluzione di Tonemi. Maron. Cosa ti hanno combinato? Eri un Pokémon così caruccio e con tanto potenziale. Guarda cosa ti hanno fatto diventare. Bravo Poggato! Benissimo, GG. E anche la seconda palestra è stata ufficialmente sbatacchiata. Sì, 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 silenzio. Ti ho aperto il culo, stai zitto, non hai diritto di parola. Cavide è veloce! E proseguiamo il nostro viaggio. Sapete che non ne ho idea di dove io debba andare adesso? Cioè, sto per aprire la mappa. In un gioco Pokémon. Incredibile. E non lo sto facendo per volare. Ah, ok, si va avanti da qui. Ciao, benvenuto al negozio rustico di Lisa. Vuoi controllare il nostro negozio? Sì. Energy Powder, Energy Rute, il Powder. Oddio! No, no, no. Sta qua mi vuole fare entrare in uno schema piramidale di omiopatia. Scappa! Scappa, Giovanna II! Tancun. Questo è il Maitiena della regione, invece. No, non volevo lanciargli la Megaball. Ti prego, esci. Non ti voglio catturare con la Megaball. Mi darebbe fastidio. Porco di quel... Ho catturato tutti con la Pokéball. E poi c'è lo stronzo nella Megaball. Mi dà fastidio come cosa, ve lo dico. Ah-ha! Me lo sentivo che c'era un oggetto qua dietro. Non fai una linea costiera così lunga se non ci nascondi niente. Che cazzo sei tu? Sei inguardabile. Ti voglio assolutamente in squadra. Vieni subito. Quindi, dopo queste due nuove aggiunte permanenti al team, Giovanna II e i suoi Pokémon risalgono tutto il percorso 4 in direzione Rochefail Town. Mattia, aspetta. Perché hai detto Giovanna II se il personaggio originale si chiamava Giuseppa? Non dovrebbe essere Giuseppa II? E la risposta è sì. Però abbiamo dimenticato di averla chiamata Giuseppa ed ero convinto di averla chiamata Giovanna... Voi non fateci caso. Per raggiungere la nostra meta, però, un montanaro randomico ci costringe ad attraversare la Comet Cave in compagnia di Teo dal momento che un Pokémon molto forte al suo interno stava smattando di brutto. Peccato che quel cacra sotto di Teo se la sia dato a gamba nel momento esatto in cui questo Pokémon ci ha imbruttiti. A cosa è servito farmi fare questo pezzo con Teo? Ad assolutamente niente, soltanto a farmelo odiare di più. O comunque bellino Terlar, d'ottima aggiunta al nostro Box 1. E salve, benvenuti a Rochefail. Aha. Very good, very nice. Dove cazzo lo ottengo il mio condivide esperienza? Giovanna Seconda? Oh, che sorpresa. Sfortunatamente non è il miglior momento in cui incontrarci. Sai, c'è stata una piccola emergenza al laboratorio Cipresso. Sono tutti quanti... Non posso spiegartelo qui, quindi, per favore, vieni con me al laboratorio. Aha, tu sei la figlia di Kellen, quindi, eh? Beh, allora suppongo di potermi fidare di te. Sono entrati nel nostro laboratorio e l'unica cosa che hanno fatto è stato liberare i Pokémon che stavamo tenendo chiusi qua dentro per ricerca, ignorando completamente il nostro tesoro più prezioso, ossia il Pokémon Speech Translator, o meglio, un suo prototipo. Ci sono moltissime persone che sarebbero disposte a tutto, pur di averlo tra le proprie mani. Hmm, ho un'idea. Perché non parliamo con questo Outen? Spaventoso, così spaventoso. Ero nella mia poche palla, addormentato, e improvvisamente mi muovevo. Ma, amico, no umano. Prende me e altri, fuori, verso caverna di montagna. Come stracazzo lo prendiamo, sto ladromo? Cioè, ha tutti quanti i Pokémon che ha rubato da qui e non sarà facile affrontarli tutti. Oh, ma ovvio, che domande. Ci penserà Giovanna a seconda? Pezzo di merda. Solo perché sono la tua assistente sottopagata, stronzo. Eccolo qua! The Boy! Mr. Aglio! Garlic Kid! Cosa ci fai qui, umano? Stai per caso cercando di schiavizzare di nuovo questi Pokémon? Beh, sappi che li ho appena liberati da te e da tutti quei bastardi nerd scienziati. Eroe ragazzaglio. Ah! Un Pokémon che usa Pokémon mi disturba un pochettino, ve lo dico. Perché mi è tolto soltanto 6? Con un brutto colpo? Non lo so, ma top. Perché quei Pokémon combattono per gli umani? Non vogliono la loro libertà. Loro sono i tuoi amici? È impossibile. Grazie per averli liberati, Fra. Molto gentile. Comarades! Perché state tornando indietro in quel postaccio? Perché? La pagherai per questo, umano? Tornerò. Ma il mio lavoro per ora qui è finito. Addios. Grazie per il PST. Molto gentile. Posso il mio condivido di esperienza? Grazie. Bambù. Alleluia. Ricevuto quindi il condivido di esperienza dal professor Bambù, proseguiamo il nostro viaggio in direzione ovest lungo il percorso 6. E qui, oltre a qualche cattura randomica per puro collezionismo, assistiamo alla seconda evoluzione del team. Tankoon sala a livello 18. E possiamo concludere questa live con un'altra evoluzione. Vai, Tankoon. Mi ricordo che diventavi un lupone. Non mi ricordavo che fossi così bello. È piano, però, che non ho ancora visto le texture. Meh. Ce la faccia un po' impepeghita, però è comunque molto bello. Attraversiamo poi il brevissimo Rochefail Tunnel e cominciamo ad incamminarci verso Bilbeach City, sede della terza palestra, salvo essere nuovamente fermati da Teo. Teo, basta, ti prego, non ce la faccio più a distruggerti ogni volta. Arrenditi per il tuo bene. Il fatto sta che dopo aver malmenato sia Teo che una miriade di karate boys lungo la strada, sono finalmente giunti in quel di Bilbeach. Nuotare mi tieni in forma. In quel modo posso bere quanto voglio la notte. Mood, cazzo. Mood. Voglio ubriacarmi a merda tutti i giorni, ma se lo faccio poi divento grasso e basta, quindi mi alleno per bere. Tu devi essere nuovo da queste parti. Cosa sono tutti quei vestiti? Togliteli. Trai una bambina. Ehi, ma tu non sei... Oh, cazzo, tu sei Giovanna Seconda, vero? Sei la figlia del capo. Merda. Ho attivato della lore inconsapevolmente. Non volevo. Fammi fuggire. Ehi, invece c'è papà. Sei una ricercatrice sottopagata del professor Bambù. Oh, cazzo, mi dispiace. Sei un'allenatrice, è tutto. Scusi per l'interruzione, capo, ma c'è una lettera per lei. Una lettera? È da parte di Cameron, dalla nuova centrale nucleare. Dice che tutto sto quanto sta andando per il verso giusto e che presto la centrale sarà full operativa. So che è molto improvviso tutto ciò, ma devo chiederti un favore. Potresti gentilmente recarti alla centrale nucleare Epsilon e consegnare la mia risposta a Cameron? Sai, Lucilla, tua madre, è scomparsa proprio su quell'isola dieci anni fa. Ah, Poggers, fado a morire anch'io. Vabbè, vi porterò entrambi. Non so che cazzo gli passi per la testa con i tuoi rincocoglioni, ma vabbè. Andiamo. Ah, così, cazzo. Quanto immediato. Madonna, fosse così anche Irl sarebbe bellissimo. Eh, Cameron, come stai? Finalmente siete arrivati, seguitemi per favore. Beh, bla, bla, bla. Sta dicendo come la loro vita si è cambiata dopo la morte di Lucilla. D'altronde, mio papà era suo marito mentre Cameron era l'amante, quindi cose. So che deve essere difficile per te sentire queste cose e forse vedere la centrale ti porterà a una sorta di closure. Cioè, nonostante, sebbene il livello di radiazione si sia abbassato notevolmente, c'è ancora qualcosa di strano riguardo i Pokémon qua attorno. E vai, andiamo ad esplorare la centrale abbandonata, Poggers. Teo Mazzarri momento che piange perché non può andare dentro la centrale nucleare. La vita non è sempre giusta, Teo. Ora stai zitto e non cacare il cazzo. Giovanna, tu invece hai il mio permesso di esplorare la zona circostante della centrale. E signori, benvenuti. Al vero motivo, per cui stiamo giocando Pokémon Uranium. I Pokémon di tipo nucleare, come questo. Il tipo nucleare è molto particolare perché, se non ricordo male, è super efficace su tutto ed è debole a tutto. Qualcosa del genere. È stranissima come cosa. Quindi, magari proviamo a catturare un po' di Pokémon qua attorno. Se ce la facciamo, magari togliere Tanscure o Barul per far spazio al nucleare non sarebbe una brutta idea. E Cubblefly si evolve, signori, perché ha raggiunto il livello 24. Oddio, che strano! È abbastanza simile a come si sarebbe potuto evolvere tipo sprigatito nella mia testa. E questa è la famosa stanza. Quella in cui mamma Lucille è stata vista per l'ultima volta prima di chiudersi qua dentro il reattore. Suppongo. O forse no, forse mi sbaglio. Eseguire processo di ristorazione. Errore. Instabilità detectata. Errore, errore, errore. Oh? Bella Tropaint. Oh minchia, a livello 30. Meh, 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 meh. Aspetta, eh, che qua... Cioè... Aia! Eh, se riesco a catturarti un Pokémon al 30, non lo schifo, eh. Devo farlo. Vai di Duskball. Ma non c'erano tipo le Nuclear Ball che erano più efficaci sui Pokémon nucleari? Chi se ne frega! Tropaint preso! Le radiazioni ti fanno sentire tutto quanto... Come lo traduco? Non lo so. Ti fan girare la testa. Ah, quindi mo' son morta. Perfetto, fantastico. Hai trovato un notebook parzialmente distrutto? Affascinante. Posso darci un'occhiata? Chissà come mai, ma non me ne ero mai accorto prima d'ora. Sembra che si tratta di report di laboratorio. Strano, però. Pensavo che l'edificio fosse una centrale nucleare, non un laboratorio. La maggior parte delle scritte è oramai illeggibile. Tuttavia c'è il numero 092 che appare più di una volta e attira parecchio la mia attenzione. Bene, ora è giunto il momento di demolire quel cazzo di edificio. Grazie Giovanna! Mega assorbimento, store di raggio, slaggio e acido. Beh, ma sai che è quasi quasi. Al posto di Barul, per ora. Giusto perché è il livello 30, eh. Ora posso entrare? Ah, yes. Ed è una palestra! La palestra è tipo spiaggia, non acqua. Cazzo, è vero che qua le palestre non hanno dei typing, ma hanno dei temi. Continuo a dimenticarvelo. Eccola qua l'allenatrice. Eccola qua la capopalestra. Signori! È giunto il momento di sfidarla. Ciao Kali! Lascia che ti dica qualcosa su di me. Non me ne frega un cazzo. Muoviti! Aia! Ma quanto male! E lo ritira. Va bene. Assolutamente nope. Bravissimo, un inflora. Kararalm. Non cambio di nuovo. Ok. È l'evoluzione di Coconut Nutty. Is a Giant Nutty. If you eat too much, you get very fat. Potrebbe essere stata un'idea di merda mettere in campo Raptorch. E vabbè, finché mi attacco con una mossa erba. Ma vaffaculo! E ci cade anche Kararalm. Che potrebbe essere stato anche il quarto e ultimo Pokémon. E così è. Kali è stata ufficialmente sconfitta. Battuta quindi la palestra spiaggia. Finisco di esplorare la città di Bilbic. E decido di incamminarmi verso la quarta palestra. Quando all'improvviso... What in the actual cazzo è successo? Io stavo andando tutto chill verso Vinoville. Giovanna II, c'è un'emergenza. Guarda, l'oceano. È saltata di nuovo in aria la centrale nucleare. Sì, però frate, non dovevano farla saltare in aria. Cioè, non era prevista sta cosa. Devo andare immediatamente presso l'isola. Le persone sono in pericolo. Questa volta, però, cercherò di fare la differenza. Per te. Per Lucilla. Ho bisogno che tu ti tolga dal cazzo. Quest'area è pericolosa. Ci sono un sacco di radiazioni incoming. Quindi levati dagli coglioni e vai verso Vinoville. Ah, BB ferry ticket. Ok, sì, mi porta direttamente a Vinoville. Grazie, pa! Ah? È un biglietto quello? Beh, sali pure. All'interno di questa minuscola nave. Senza nessun tipo di proporzioni corrette. E siamo partiti. Ciao, pa! È stato bello. Qual è la mia stanza? Porca puttana! Camera sbagliata! Camera sbagliata! Esci, 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 esci! Vai, flame wheel! Sono più veloce io? E non gli ho tolto un cazzo! Perché è fisico. Lui sei stato la difesa fisica. Vai con Ember! Porca puttana! L'avessi fatto due volte... Che scemo! Stupido, Teo! E poi pretendi di essere il miglior allenatore in circolazione. Stupido! Finito di battere tutti gli allenatori a bordo. Scendo dal traghetto e inizio a correre in direzione Vinoville lungo il percorso 08. Dove tra parentesi c'è stato un segmento stranissimo riguardo i pochi alieni e i cerchi del grano. Insomma, ancora non ci ho capito perché e per come. Ma almeno questa cosa ha permesso al nostro starter di evolversi. E vai. Ehi, mi è stata sconfitta. E quindi Raptor, c'è il nostro starter, finalmente si evolve! Finalmente non avremo più delle statistiche di merda. Che giuoiua! Posso dire che è bruttino. E ora sarebbe anche il momento giusto per affrontare la palestra di Vinoville e il suo capopalestra Sheldon. Se solo non fosse per quello stupidissimo e odiosissimo puzzle. Oh, cazzo! Oh, merds! Oh, fankools! C'è il pavimento invisibile! Fuck! Fuck! Davvero? C'è seccato? Ci sono altri allenatori? Pronti a combattere contro Sheldon! Minchia, al 32. Figa che salto dagli allenatori della palestra al 22-23 al suo primo Pokémon al 32. Cazzo! E ora sta per mandare in campo Tracton. Chi cazzo è Tracton? Ma chi è? È una Poképacchera! È una fottutissima ruspa! Eh, oddio! Non gli ho fatto tanto danno, eh! Oh, Shift Gear Occhio! Magnitudo 10! Che culo, Archilles! Che culo che l'hai pescato dal cilindro! E, signori, Sheldon è stato ufficialmente sconfitto! E ora riprendiamo la nostra avventura... Non riprendiamo la nostra avventura! Cioè, questo boccia, credo che si chiami tipo Terry, qualcosa... Vabbè, in ogni caso, ha uscito tutti i Pokémon dalle palle! E sembra un po' scazzato! Ha detto che ti stava cercando! Potresti gentilmente sincerarti del fatto che stia bene, per favore? Dai, sembra un pochettino troppo giovane per starsene in giro! Sì, non solo giovane! Anche completamente rincoglionito e fuori di testa! Ma mi hai mentito! Non c'ha tutti i Pokémon fuori! Cosa? Hai già la medaglia? Cazzo, ci ho provato, va! I suoi Pokémon sono troppo forti per me! Non è giusto! Starei pensando che sono soltanto un piagnuccolone! Eh sì! Teo Piangina! Dove sei, papà? Perché sei scomparso? Io ho bisogno di te! Cazp! Altra esplosione? L'hai sentito? Sembrava un terremoto o no? Dunque, siamo nel bel mezzo di una crisi come non si è mai vista prima d'ora nella regione di Tandor! Per favore, cercate di rimanere calmi! Qui a Legend Town siete in una zona sicura! Stiamo cercando di fare del nostro meglio per contenere la distribuzione, lo spreading della radiazione! Daremo a tutti quanti dei pass gratis per la metropolitana, così che possiate andare a visitare la vostra famiglia anche in altre parti della regione! Tutti coloro che sono pochi allenatori in questa stanza? Beh, solitamente non chiediamo aiuto ai civili, ma in questa situazione di emergenza potremmo aver bisogno uscite le palle e i Pokémon da esse! Va bene, andiamo a dare una mano ai Rangers! E ora tenetevi forte perché sta per arrivare il momento del mega riassuntone! Su Ordine dei Ranger aiutiamo Papa Kellen a far fuori tutti i Pokémon affetti da radiazioni sul percorso 11 e come ricompensa riceviamo la MN Forza, grazie alla quale potremo raggiungere la prossima location, Amatry Town, sede della quinta palestra! Per raggiungerla però dovremo prima attraversare la tostissima Baikal Forest! Tosta perché non essendomi portato dietro l'ombrello mi son beccato tutta la pioggia e mi è venuto il raffreddore, eh! Mica per via dei Pokémon che l'abitano, quelli sono tutti delle mezze seghe! Tutti meno uno in realtà, Chicoatl! Un ciro di tipo erba che ho deciso di catturare ed aggiungere permanentemente al team, fillando quindi il quinto dei sei slot, e che letteralmente 12 secondi più tardi si è evoluto in Quezzoral, tipo erba volante. All'interno della Baikal Forest ci imbattiamo in quella che pensavo potesse essere una piccola caverna, e invece si è rivelata essere un enorme covo di insetti che, comandate a bacchetta da un'entità superiore, hanno rapito e legato un uomo di nome Tico per sacrificarlo alla Grande Madre. Ovviamente salviamo Tico rompendo la ragnatela, ma questo non fa altro che scatenare le ire della Grande Madre degli Insetti, il Pokémon leggendario Seikamater! Sfortunatamente però, per colpa del suo tipo coleotero normale, sono riuscito a batterlo con Archilles e Quezzoral in un batter d'occhio. Peccato che non potessi catturarla, altrimenti sarebbe stata un'ottima aggiunta al mio Box 1. Placcata la situazione, Tico ci rivela di essere il capo palestra di Amatri e ci invita a raggiungerlo per provare ad ottenere la quinta medaglia. Bastardo, io ti ho salvato la vita, potresti anche darmela a prescindere dalla medaglia, brutto figlio di... Come disse una volta un grande saggio. Pezzo di merda! Ma io ti ho salvato il culo! Ma col segno di poi adesso ricarico e lo lascio morire il bastardo. Vabbè, direi che possiamo finalmente entrare in palestra, no? Oh cazzo! No! No! Mi rifiuto! Tico! Posso avere la medaglia e basta, ti prego! Ti prego, non ho voglia di fare i puzzle! Cazzo però se i primi allenatori della palestra c'hanno i Pokémon al 34, io ho paura. Ho paura che il capo palestra possa averceli anche quasi al 40. Ah, e Aveden si sta evolvendo. Che gioia. Non vedevo l'ora di assistere a questa evoluzione per avere finalmente un Pokémon così brutto. È un tapiro volante con i capelli lunghissimi. Ciao Giovanna II. Ah, non posso ringraziarti abbastanza per avermi cacciato fuori da quel guaio. Certo che puoi. Puoi farlo dandomi la medaglia senza combattere, vero? Quanto è bello, Pajei. Quanto cazzo è bello. Io lo avevo in squadra nel mio gameplay che ho fatto su YouTube nel 2016. Tanskior, quanto meni. Peccato che ora ci muori. E invece lo stupido sottogiorno di sole. Ma che stupido. Cimaconda. Who the fuck? Madonna che bruttura di Pokémon, posso dirlo? Quel serpente sembra proprio uscito da un gioco comprato a 50 centesimi su Steam. Ma magnitudo sei? Porca troia! Archilles! Quando è che impari terremoto? Mi sa che è per 4. Mi sa che è fuoco veleno. Tu non hai difesa. Sei imbarazzante. Mo vai magnitudo 9. Quanto mi dai fastidio? Quanto mi dai fastidio, Archilles? Ce la farà il nostro eroe a reggere un attacco e poi a sferrare un magnitudo per 4 che me lo abbatta? No. Magnitudo sei? Ti odio. Archilles ti odio. Ti odio. Sei fottutamente inutile. Lo staller ce l'ha fatta. Stallare funziona sempre. Da vere merde. E anche Tico, signori, è stato battuto. Ottenuta quindi la medaglia salsa, non facciamo in tempo a fare due passi al di fuori della palestra che ovviamente si presenta Teo a rompere le balle. Ovviamente lo battiamo, ovviamente il piangina si mette a frignare e tutti i tronfi ci possiamo finalmente incamminare verso la parte orientale della regione di Tandor grazie alla MN Surf che Teo stesso ci ha appena consegnato. Prima di solcare i mari del percorso 22 però, poiché questi sono presidiati da dei surfing ninjas con Pokémon decisamente più livellati dei miei, faccio tappa in una caverna molto importante dal momento che al suo interno potremo scegliere un Pokémon fossile. La scelta è tra Fossil Capello e Fossil Zanna. E lo so che essendo pelato avrei forse dovuto scegliere il Fossil Capello, ma il typing del suo Pokémon non mi piaceva tantissimo perché era tipo elettroroccia. Pertanto ho optato per il Fossil Zanna che una volta riportato in vita ci ha regalato Snow Patch, elefantino di tipo rocciaghiaccio. Salutiamo anche l'attapirato Splendifoul e in questo modo il team è completo. Team che tra parentesi ho allenato off-camera portando tutti quanti Pokémon al livello 40 e nel frattempo facendo anche evolvere Brain Leap in Brain Roar. Senza dubbio non il team migliore, senza dubbio un team con del pessimo typing, ma senza dubbio un team parecchio cazzuto. Comunque sappiate che off-camera sono stato assalito e attaccato da il capo del clan dei ninja, praticamente Maestro Splinter, però subacqueo, e ho perso perché avevo i Pokémon sottolivellati ed era qui! Aha, visto? E ora il loro boss di nome Okage ci attaccherà. È come se stessi affrontando il Gran Maestro Capo Ninja. Sì, però Okage è il suo vero nome proprio, cioè invece che chiamarsi Beppe si chiama Okage. Hai altri Pokémon, bastardo? Vedremo la sua evoluzione ora, che è l'unico Pokémon che ancora non ho visto di tutti quelli che ho. Vai, Archilles, è il tuo momento! Magnitudo! Sette. Buono. E l'idea di merda di mettere un Pokémon fuoco-terra contro un Pokémon acqua ha portato bene. Ah, si evolve anche se è morto? Beh, tanto meglio. Vediamo come viene fuori l'evoluzione finale. Ma è un pepega lungo! Perché c'hanno tutti la faccia TRL, ga? Non può essere. Che le profezie siano veri... Aspetta, quali profezie? Mi son perso della lore qua dietro. Cosa? Siamo i nuovi Okage, rega. Siamo il capo dei ninja. Che fico, eh? Mascara Island, East di Venesi City. Oh, streghetta, lei è proprio lei, la Venesi. E il primo Pokémon che ci appare è uno sprizzi. Tanti sprizzi. Però in effetti c'è... Se siamo sulla isola di... Uno shiny! Ma a caso? È il primo che vedo! No! Cazzo, cazzo, cazzo. Non rischio di ucciderlo. Piuttosto spreco tutte quante le mie bolle. Yes! Yes! Ma che bello che è! Posso dire che è quasi più bello normale che shiny. Salemi di livello, Snowpatch. Bravissimo. Bravissimo. Corso Reef. Avete presente Cursola? Ecco. Questo è quello che sarebbe potuto essere. Se non gli avessero messo il tipo spettro. È una mucca. Eccolo qua. Si sta evolvendo. Il nostro piccolo elefantino sta per diventare il biggest boy di tutti. Guardate quello quanto è massello. Quanto è grosso. Quanto è cazzuto. Dermafrost. Cioè lui lo vorrei nei giochi reali, cazzo. E davvero ancora non sono arrivato a destinazione? Che palle figa. Ah no. Oh streghetta! Le proprio venesi city! Oh adesso andiamo a farci un bello sprissino. Ah comunque qua a Venezia non mi sembra ci sia molto altro da fare se non andare in palestra. Sei tu vero? Eh sì. È la opera house e anche la palestra. Oh streghetta. Basta devo smettergli lo streghetta. Il tema di questa palestra è la teatralità. Quindi suppongo che saranno principalmente Pokémon di tipo psico. Mi vien da pensare. Ma ora che sei giunto qui avrai la saggezza necessaria per risolvere l'ultimo puzzle? Dimostramelo in battaglia. Eh ok. Leader. Iago. Non sono io il vero capo palestra che vai cercando. Forse ti aspettavi questo? Frate ma non nella botola del palco. Ma che cazzo vuol dire? Actually era una puntata di caduta libera con Jerry Scotti. Eh vabbè ci sta raccontando di come ha superato le avversità in un mondo fottutamente tradizionalista che non lasciava spazio alle donne. Go Rosalinda. Sei tutti noi però io sono qua per combattere e non per sentire la tua sob story se permetti. Ah questa qua è l'evoluzione della maschera. No. È la maschera. Che si era... Ci ho capito un cazzo va bene così. Ora rimane effettivamente l'ultimo. Il vero e proprio il Dramsama. No. Non switchare per ora. Fica al 45. Tanskir è il tuo momento. Devi fare morso. Essendo più veloce. Farla flinciare. E poi mordere di nuovo. Sì. Sì. È successo. Il predictore. Il predictore. Allora Rosalind. Gran bel personaggio. Gran bella backstory. Power to you. Hai cagato il cazzo. Ti prego smettila di parlare. Sembra di passare la serata insieme a me che non sto mai zitto. Orca troia. Lore. Il professor Bambu ci chiama. Probabilmente ti starei chiedendo. E mo che stragazzo faccio? Beh la risposta è semplice. Ci sono ancora due palestre da battere. Prima che tu possa prendere parte ai Tandor Regional Championship. Pertanto forse ti conviene andare a nord. In modo tale da raggiungere la Snowbank Town. Ora provate ad indovinare cosa ci tocca fare prima di incamminarci verso Snowbank. Esatto. Sbatacchiare di nuovo le chiappe a Teo. Che sorpresa eh. Incredibilmente però questa volta non ha pianto. Sono passate quattro ore dall'ultima volta in cui l'ho visto Frignare. E Teo è maturato di botto. Ora le sconfitte sono l'occasione per imparare e per crescere. E vabbè rimane comunque un perdente. Entriamo nella caverna labirinto nella quale abitano Pokémon dall'aspetto alquanto discutibile. E una volta usciti da essa raggiungiamo Silverport. Ma scusa non dovevamo andare a Snowbank. Vero ma qui c'è della aglio ragazzo lore. A Silverport troviamo infatti un laboratorio gestito dal sospetto dottor Larkspur. Che così come la dottoressa Cipresso sta svolgendo degli studi sui Pokémon. Tuttavia quando proviamo a parlare con uno degli Outen utilizzando il PST. I suoi scagnotti ci circondano, ci derubano di tutto. PST, Pokémon, strumenti, carta di credito e dignità. E ci rinchiudono in una cella. Fini dei giochi, abbiamo perso, è finita. No, non è vero. Infatti nella cella accanto alla nostra si trova Garly Kid, l'eroe dei Pokémon. Il Pirla ci riconosce e poi ci aiuta a malmenare tutti. Larkspur compreso. Lo scienziato criminale se la dà a gambe per non essere catturato dalla Poképolis. E Garly Kid, l'eroe dei Pokémon, decide di unirsi a noi. Ottima aggiunta per il mio box numero 2. La nostra avventura prosegue dunque a nord, lungo l'innevato percorso 16, che nonostante mi abbia fatto bestemmiare ogni tipo di divinità Pokémon e non a caso dei suoi stupidi puzzle sul ghiaccio, ci ha condotti fino a Snowbank. In questa fase di gioco c'è un sacco di lore secondarie che mi ritrovo a dover sintetizzare tantissimo per evitare di 1. perderci il punto focale del video e 2. farlo durare 12 ore e mezza. E comunque ora è tempo di palestra numero 7. Madò che beh. No. Voi volete sfidare la palestra, vero? Eh, molto bene. Questa palestra di solito la si affronta a coppie. Ah, hai sentito? Possiamo affrontare una palestra insieme, io e Giovanna Seconda. Yahoo! Io sono Verin il Drago, arbitro della Mega Evoluzione a Tandor. Potrete anche aver passato tutti quanti i trials, ma alla fine, mettendo un unico test finale, dimostratemi di essere degni. Ma in 2v1? Poggears. Ok, pessima scelta come Pokémon iniziale io, eh, comunque. Ok che il nucleone è un'idea di merda come Pokémon, però diciamo che ho anche mandato in campo un Pokémon un attimino cuscinetto per permettermi di buttare in campo quello effettivamente che mi serve. È la Madonna! Anfaro si addormenta, Ninflora muore, rientra in campo Archilles, Earthquake, cade anche Meta Links, me ne rendo conto, però ne vale la pena. E nonostante del severo underleveling, grazie all'aiuto di Teo e a un revitalizzante, abbiamo battuto la palestra con Archilles Last Man Standing. Bene, è giunto il momento, datemi i vostri polsi. Teo e Giovanna sono stati arrestati, il gioco finisce qui. Ora, avete entrambi dei Pokémon in grado di imparare la Mega Evoluzione? Sì, io ho il mio Mega Meta Links. Grazie, vabbè io ho il mio... Ho il mio Archilles, facciamolo Giovanna, ti attaccherò con tutto il mio potere. Ma davvero? Matteo, ma rinco coglione, ma c'è pure la faccia che si è trasformata in un Pepega. Ma spero sia un 1v1 e basta, eh. Pronti raga a vedere Mega Archilles? Oh... Merda, è più cazzuto di quanto ricordassi. Mega Meta Links è sempre un gran bello metto, però merda. Mega Archilles è bellino. Ma come lo ritira? Frate, no, non iniziamo. Ditemi di più sulla vostra avventura. Non ho voglia di parlare. Ah, sì, è successa quella roba lì che mi hanno rapito. Vabbè, sì, è tutto nella norma. Alla fine li ho menati con un bimbo di aglio. Bene, ora vi rimane un'ultima medaglia. AK Palestra, che si trova allo Tsukinami Village. Sfortunatamente è pieno di pirati e ninja. E va bene. Ah, stupido bambù. Lui non sa che con la MN su posso schivare entrambi, dato che né i pirati né i ninja possono stare sott'acqua. Scaccomatto, Ernesto. Comunque sì, in un butterdocker arriviamo finalmente al villaggio Tsukinami, dove dovremo affrontare l'ottava e ultima palestra. In questo tempio vengono venerati gli dèi Aozio e Muzio. Vuoi vedere che sono quei due fottutissimi Slugma Boys sulle statue? I gym leader della palestra sono il principe e la principessa del clan ninja. Non solo, ma sono anche i messiai, portavoce degli dèi. Eh, madonna, che cosa esagerata. Madonna, però, se hai dei problemi di framerate, stapparella. Stapparella. Terriamp. Yes! Mamma mia, che cosa pepeghissima. Questo qua era l'altro fossile. Questo è il bradipo elettroroccia. Io non vorrei dire che abbiamo fatto bene a prendere Dermafrost, ma abbiamo fatto bene a prendere Dermafrost. Dovrai sfidare tutti e due, ma non ti potrai fermare finché non avrai battuto entrambi. Quindi non possiamo fermarci tra uno e l'altro per curarci. Pesa! Pesa! Pesa di brutto. Voglio passare un attimo a farmi curare. Sì, famolo. Prima che sia troppo tardi. Raga, chi è che andiamo a sfidare qua? Laura Pausini o Morgan? Da chi cominciamo? Ma non Morgan Freeman, non quel Morgan. Vabbè. Ok. Cazzo, al 57. Gli ho tolto un cazzo. Gli ho tolto niente. E ha pure i leftover. Oh, ma che cazzo? Con Psico per 4 ci cade. Bravo Brain Roar. Altri Pokémon? Arbok. No, non switchare. Al 60. Con Intimidate. Ciao. Bellissimo. Bellissimo Mega Arbok. Sebbiamo di ricerchire Achilles. L'ha letto. L'ha letto. Bene. Bene. Benissimo. Mo' son fottuto. Perché non posso neanche fermarmi per curare i Pokémon. Prossima volta... Che li risfido perché ormai è andata. Oltre a dover fare un pochettino di scorte in più di pozze. Mega Evolviamo l'Archilles soltanto dopo aver battuto il Quatleth. A few moments later. Bene. Tre colpi. Tre colpi, Dermafrost. Ti odio. Con tutto me stesso ti odio. Pitta me ne tremo. Uno. Due. Non è vero. Non è... No. Che cazzo significa? E dai due ai cinque colpi. Non due e ogni tanto tre. No. Dai due ai cinque colpi. Vuol dire che statisticamente non puoi farmi due volte di fila. Oh. Crit. Qua anche se sono due ci muore. Scende. Cade. Abbiamo battuto Laura Pausini. E ce la siamo gestita bene. La seconda volta sapendo quello che avevamo dovuto fare l'abbiamo gestita non bene di più. Archilles è sceso in campo due volte per battere entrambe le Mega. Bravissimo. Bravissimi. Medaglia Zen ottenuta. E ora che le abbiamo tutte otto ci manca solo la fottutissima Lega Pokémon. Eh? Eh? Che cazzo succede? Il villaggio sta per essere attaccato. C'ho la paiura. Oh. I ranger. Salve. Cittadini di Tsukirami Village. Vi prego. Venite con me. Un informatore ci ha rivelato che la persona che sta causando questi attacchi si stava dirigendo verso la centrale nucleare Omicron. Perché è l'ultima che rimane che ancora non ha attaccato. Ci vuole proprio un genio per capirlo. Vero? Ha attaccato la Epsilon. La Zeta. Hmm. Rimane la Omicron. Stai a vedere che attaccherà la prossima. Bravi. Quindi. Giovanna Seconda. Pensi di venire anche tu alla centrale nucleare? Kellen si sta dirigendo lì in questo precede istante. Quindi immagino che si aspetterà di vederti lì. Va bene. Andiamo. Giovanna Seconda. Grazie ad Archeus sei qui. Questi Pokémon nucleari non riusciamo a tenerli a bada. Dobbiamo impedirli di entrare. Ah. E sono scappati. Huh? Hanno smesso di attaccare così. Out of nowhere non appena sei arrivata tu. Non li ho mai visti comportarsi in questo modo prima d'ora. Che sta cazzo sta succedendo? Ho una bruttissima sensazione. Ed eccolo qui. Il cattivo. Che cazzo è stato? Viene da dentro l'impianto. Ma... Com'è possibile? It's gonna explode. Do the people running. Oh no people running. Only looking at the explosion. Eccolo qua. Il cattivo trademark. L'Urania è scomparso. Dov'è? In quanto capo dei ranger di Thunder ti obbligo a fermarti. Identificati subito. Oppure attaccheremo. Noi siamo Kyurey. Noi siamo i Rain. Toglietevi dal cazzo. O vedrete l'abisso. I Pokémon nucleari. Quella cosa gli sta dando degli ordini? Ci hanno circondati. Siamo fottuti nel culo. Tutti coloro che si opporranno a noi verranno rasi al suolo. Dateci ciò che abbiamo chiesto. Oppure morirete tutti. E' quello il motivo per cui stai attaccando tutte le centrali nucleari? Per rubare dell'uranio? Se il nostro potere è di gran lunga maggiore rispetto a quello di tutti voi messi insieme. Vi distruggeremo senza alcuna pietà. Urane. Pugno atomico. Giovanna. Se non dovessi farcela. Devi fermare questo folle. Kyurey. Costi quel che costi. Noi non li lasceremo. Così all'improvviso Cameron Plotwist è arrivato. Impossibile. Pensavamo di averti ucciso. Pensavate male. Ho giocato d'anticipo e ho fatto rimuovere tutto quanto l'uranio da questa centrale nucleare. Non lo troverete mai per la tua insolenza, per averci seguiti, spiati, per averci bloccato i piani. Tu verrai distrutto. Oh no, papà è in pericolo. Andiamo Giovanna II, dobbiamo aiutarlo. Teo aspetta, ma è troppo pericoloso, ma togliti. Kyurey non esiterà ad ammazzarti. Questo ragazzino è importante per te? Nah, fai pure quello che vuoi. Lo ucciderò qui, proprio davanti ai tuoi occhi. No, Teo. Pfff, pussi sentimentale. Ah, perché è stato colpito Cameron, di nuovo, ripperotti. Che questa sia una lezione per tutti voi. Troveremo il posto in cui l'avete nascosto. Questo è soltanto un piccolo cambio di programma. Presto, avremo tutta l'energia necessaria. La pagherete, bastardi. Urain, voliamo a Reggio Emilia. Facciamo che vi risparmio 25 minuti di dialoghi inutili e riassumo tutti in un minuto, va là. Cameron, ora in comodo può essere stato attaccato da Urain, è in realtà un agente dell'Interpol a cui, dieci anni prima, era stata affidata una missione, scoprire cosa stesse accadendo presso la centrale nucleare Epsilon. Sfortunatamente non riuscì a portare a terra nel proprio compito, a causa dell'incidente in cui perse la vita tra le varie persone anche Lucille. Tuttavia era comunque riuscito a scoprire qualcosa. In un laboratorio della centrale stavano lavorando alla creazione di un Pokémon artificiale che sarebbe stato in grado di produrre energia nucleare infinita. Dopo l'esplosione, Cameron intravide una silhouette dalla forma simile a quella che avevano Kyuri e Urain, emergere dalle macerie e volare via. Pertanto, nonostante fosse stato mandato in pensione dall'Interpol, decise di continuare ad investigare sui due e scoprì che in realtà Kyuri è il nome dell'interfaccia utilizzata dalla persona sotto la maschera per comunicare con Urain e controllarlo e che, per qualche motivo a lui sconosciuto, la rabbia di Urain era riuscita a corrompere Kyuri e a prendere controllo della mente e delle azioni della persona mascherata. In realtà nella lettera c'erano miliardi di informazioni assolutamente irrilevanti, tranne una. Non si sa come e non si sa quando, ma durante lo scontro Cameron è riuscito a piazzare un geolocalizzatore su Kyuri che ora potrà essere facilmente localizzato e rintracciato. Io non ho... quando? Quindi in compagnia di Theo salpiamo in direzione della centrale nucleare Z, mettiamo una tuta Asmat e destriggendoci tra un'ondata di Pokémon nucleare e l'altra, cerchiamo di raggiungere l'attuale nascondiglio di Kyuri e Urain. Una volta arrivati davanti all'ingresso però, Theo viene boncato e rampito da Urain, che poi scompare nel nulla. Grazie Theo, utile come sempre. Pertanto nonostante l'aria rare fatta e l'ossigeno nella bombola limitato, ci addentriamo nel laboratorio cercando la strada giusta per ritrovarci finalmente faccia a faccia con Kyuri. Ci siamo. Siamo arrivati davanti a Kyuri e Urain. Stupido bambino. È stato divertente guardarvi provare, ma qui la tua storia finisce. Ah, ce l'hai con me? Il tuo amico, lui, si trova in una situazione di stasi. Chissà che sensazione sta provando. Dolore? Paura? Confusione? Un singolo, miserabile momento portato avanti in eterno. Madonna, che cosa sa di Kyuri? Anche tu lo generai là dentro. Una volta che avremo i nostri stagi, i Rangers non avranno altra scelta se non arrendersi a noi. Dopodiché nulla ci potrà fermare. Nonostante tutto quello che ha appena detto, vuoi comunque combattere. Divertente. Molto bene. Accetto la sfida. Apocalypse Kyuri vuole combattere. E comincia con quel coglione di Nucleon. Non sei credibile se mi parti con Nucleon. Vediamo se per caso attacco prima, ma do... Merda, peccato. Oh, Ninflora. Hai fatto il tuo. Oh, porca puttana, c'è Urain. No, non voglio switchare. Ah, vabbè, ma è solo al 65. Gestibile. Dermafrost. Sei la mia ultima speranza. Se mi muori tu, devo revitalizzare l'altro stronzo. Merda, Overheat. Però aspetta, forse lo leggiamo, Overheat. Benissimo. Bravo Dermafrost che mi batte Urain. E Kyuri è stato sconfitto. Questo non può succedere. Dovremmo essere invincibili, Urain. Come... Come hai potuto? Oh mio Dio, anche se hai perso la maggior parte del tuo potere. Ecco. E quanto basta per usare Quantum Leap? E niente, Urain... Thin Urain è scappato. Ciao papà, sono vivo. Tutto a posto. L'abbiamo trovato, Kyuri, l'abbiamo battuto. Però ora c'è Teo che sta morendo. Quindi come lo salvo? Ah. Ma perché si sta rompendo così? A caso? Senza che nessuno abbia detto niente? E niente, purtroppo è vivo. Che palle. Speravo di poterlo lasciare là dentro, invece. E ora che abbiamo battuto Kyuri, posso andare alla Lega Pokémon? O c'è dell'altra lore? C'è dell'altra lore. Papà, muori, ti prego. La lore era solo Teo sta bene, Cameron si è risvegliato dal coma, ora vai a fare i Thunder Regional Championship. Dovete sapere che in questa regione la Lega non ha una struttura classica, quindi Super 4 e poi campione. Pensi un qualcosa di molto più simile a ciò che accade nell'anime, quindi un vero e proprio torneo a eliminazione diretta che comincia dagli ottavi di finale fino ad arrivare alla finale vera e propria. La via vittoria è stata una passeggiata, ci sono voluti circa 10 minuti per superarla tutta. Sì, è durata di più la lettura della lettera di Cameron che la via vittoria, col seno di poi è imbarazzante sta roba. Ma la Lega Pokémon è stata difficilissima, continuavo a perdere in semifinale contro dei capi palestra col team potenziato. Tico in particolare, proprio lui, lo stronzo che ho salvato da Seikamater, mi avrà battuto almeno tre volte col suo maledetto Mega in flaghetta pompato di steroidi. Quindi no, non c'è stata una singola rampulita che io possa mostrarvi dall'inizio alla fine e sinceramente con tutti i tentativi che ho fatto non saprei neanche cosa mostrarvi nello specifico, se non l'incredibile botta di culo che mi ha permesso finalmente di superare la semifinale. Ha usato danza a spada. Cadi ci ti prego in flaghetta. Porca puttana. Extra rapido. Fottiti nel culo, tico. Fottiti nel culo. Yes. Ce l'abbiamo fatta e siamo in finale. Bene. Ultimo round. Quello del campione. Preparatevi e parlate con il manager quando siete pronti. Sarà Teo. 100-100. Sarà Teo. Ah, così. Hanno cambiato completamente il campo di battaglia. Ora c'è un lago di lava e noi siamo su una piattaforma di vetro che se le cose vi sono state insegnate bene potrebbe sciogliersi a causa del calore. Ed eccolo qua il nostro sfidante. Come previsto. Teo. La battaglia continuerà finché uno di due Pokémon... Pardon. Uno di due allenatori non avrà più Pokémon disponibili. E se tutti sono... Wow. Ehi, pensavo che fosse un posto sicuro questa arena. Perché c'è un terremoto? Sta per esplodere il vulcano? Sì, fine serie. Gyaug. Ma quello... Quello è un Pokémon leggendario. Impossibile. A-A-A-Aktan? C'è qualcosa che non va, Giovanna? Sembra di tipo nucleare. Ti ricordi? Gyaug. Vai. Nucleopalla. Catturami questo A-Aktan. Per qualche ragione il Pokémon non può essere catturato. Ma allora perché cazzo mi hai dato le ball? Ma sei stronzo. Eh vabbè, malmeniamolo allora. Che vi devo dire? Battaglia impossibile da fare. Sembra che tu abbia guadagnato il rispetto di A-Aktan e vuole gioinarti. Vuoi aggiungerlo al party? Scegli un Pokémon da rimpiazzare. Frate, ma togli subito Tanskior dalla mia vista. Ma è il modo bullshit per darmi un Pokémon leggendario, posso dirlo? Parecchio bullshit. Eh già. Il tempo era tutto ciò di cui avevamo bisogno per ottenere tutto ciò che desideravamo. Il potere infinito. E ora è giunto il momento della nostra vendetta. Chiuri hai cagato il cazzo. Ciii. Taglia corto. Qualsiasi cosa tu stai cercando di fare, per favore. Ciii. Basta. Non farlo. Bla 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 bla. Siamo fichi. Siamo tosti. Adesso ti uccideremo. Uccideremo tutti. Yes. Finalmente. L'evoluzione è stata completata. Il vero potere nelle nostre mani e con esso abbiamo ottenuto la forma perfetta. Camma. Urane. Porca puttana. Ok, è più grande di quanto mi aspettassi. Ah, è soltanto contro Urane. Vabbè, dai, Actan. Easy. Vai, Metal Cruncher o Inferno? Vai, Metal Cruncher. Ahia, overheat male. Bravo, Actan. Sempre sul pezzo. Vai. Flare Blitz di nuovo. Bravo, Archilles. Ti sei sacrificato. Guarda che l'ascoltatore lo butta giù. È già caduto. Chiuri è stato sconfitto. Cosa? No, 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 no. Tu ti ucciderò con le mie stesse mani. Io... Ah! Uh! Chi? Colpo di scena! Actan fugge nel centro del vulcano e scopriamo il vero volto dietro Chiuri. E chi è? È proprio lei. Quella puttana di nostra madre. Nella lava, nella lava, nella lava. A mo' di questa è Sparta. Tiratele un calcione sul petto che vuole nella lava. Temevo fosse lei. Lei, d'altronde, era capo della centrale nucleare Epsilon. Pensavo potesse essere coinvolta nella creazione di Urane, ma non pensavo che fosse effettivamente responsabile del risveglio e della distruzione che ha causato. E perché non me ne hai mai parlato? Perché pensavo fosse morta, te l'ho detto. Tutti quanti lo pensavano. Tutti, tranne te, rincocoglione. Probabilmente l'uso prolungato dell'interfaccia Chiuri ha distrutto la sua mente. Allora, io personalmente dubito che per i dieci anni non si sia mai tolta il casco. Avete presente la quantità di schifo? Lo strato di l'erciume che doveva avere addosso quella donna? Immaginatevi i capelli che non vengono lavati per dieci anni. Già stare tipo due mesi con il gesso ti fa creare praticamente la ricottina sotto di esso. Figuriamoci dieci anni con un casco. Che schifo! La porterò subito all'ospedale. Kellin, fai quel che devi. Staraptor, let's go! Oh? E mo? Actan sembra che ti voglia dire qualcosa. Umano, ti sei dimostrata degna di essere degna. Ti aspetto nel mio nascondiglio. Dovessi voler combattere di nuovo. Bella fra Giovanna Seconda. Congratulazioni! Sei la nuova campionessa di Thundor. Teo ha rinunciato al titolo! Campionessa Adonorem! E non si deve più combattere. Siii! Registra i nomi dei tuoi Pokémon. E incidili. Nella storia. Per sempre. Ma come cinque? Ma Tanskior? No, perché Tanskior non entra nella Hall of Fame? No bullshit, me l'ha tagliato fuori Perché l'ho tolto per far spazio a Daktan Ma io non pensavo Ma vaffaculo, l'avrei tenuto se no Grazie a tutti